Buongiorno e buongiornissimo player! Benvenuti come recita il nostro banner alle mie spalle, si aprono le danze per questo quarto evento di Subseason 2023-2024. Il Day 1A chiama raccolta 181 entries e 61 di questi riescono a staccare il pass per il Day 2 di domenica alle 13. Il primo del chip count è molto noto nel nostro circuito, Marcello Mosconi, già vincitore dell'All Stars di novembre e campione italiano OMA. E per il chip leader una busta contenente 338.000 chip, unico da aver superato la soglia dei 300k. Mi raccomando perché oggi abbiamo un duplice appuntamento da proporvi alle 15 l'OMA Main e alle 19 a seguire il Day 1B del Main Event. Ciao a tutti i Flyers! Ciao a tutti i Flyers!